Da oggi sono fruibili documenti storici, documenti storici che sono stati recuperati, sono stati recuperati perché in parte per esempio questo qui che vedete era stato bruciato, è stato rimesso a posto, è stato recuperato, sono stati recuperati documenti storici della nostra città e soprattutto sono stati trasformati in formato digitale, in modo che chi vuole utilizzarli può farlo anche in formato digitale. È l'assessorato alla cultura del Comune di Crotone che ha realizzato questo progetto e ha fatto riferimento per la realizzazione delle attività a due società, una che si è occupata del cartaceo, del recupero del cartaceo e l'altra per la trasformazione in digitale. Assessore, è lei che ha avuto quest'idea del recupero dei documenti storici di questa città che da oggi sono fruibili? Sì, è stato un progetto finanziato dalla Regione Calabria, abbiamo partecipato a un bando, siamo arrivati i primi, Crotone Sviluppo ha curato la nostra progettazione, la dottoressa Gualtieri, la dottoressa Cassano per quanto riguarda il Comune di Crotone ha collaborato insieme alle due società, la Sinapsi di Roma Soverato e la Scripta Manent di Reggio Calabria per creare tutto questo. Una parte il cartaceo, che sono i documenti originali che sono stati recuperati perché erano in condizioni non fruibili. Allora, no, il cartaceo è stato tolto da un incendio, quindi era incendiato, per cui voi avete la tv, potete vedere tranquillamente il lavoro fatto. Ma si vedono anche i bordi del fuoco. Esatto, esatto, quindi quello è stato ripreso e in più 1800 documenti sono stati digitalizzati e abbiamo la possibilità a chi viene in archivio di non toccare più i documenti con le mani, quindi preservandoli, ma usando questo tablet che abbiamo acquistato con il progetto anche, sia il tablet che la vetrinetta, che è uno scanner dove si possono scannerizzare i documenti senza piegarli. Non è fruibile in internet? Al momento solo dall'archivio, però il passo successivo la società Synapsys, che ha curato la digitalizzazione, in accordo con il CED del Comune di Crotone, vedrà di creare una sezione sul sito del Comune di Crotone per fare in modo che questi documenti possano essere visualizzati da tutte le parti del mondo. Quanto è costato questa attività? 20.000 euro, un progetto di 20.000 euro, come dicevamo prima, ci sono dei fondi della comunità europea, fondi regionali sugli archivi, ma c'è scarsa sensibilità da parte di chi amministra nell'usare questi fondi per queste cose. Il mio assessorato ha sempre parlato di identità, ha sempre parlato di storia e come non si fa a parlare di storia quando si parla di un archivio storico dove ci sono documenti preunitari, stiamo parlando del 1700, i documenti più antichi, che raccontano proprio come nasce Croto, Cotrone, Crotone e qui dentro c'è tutta la storia, quindi è importante aver fatto questo e non tutti hanno questa digitalizzazione nell'archivio, quindi io sono fiera e orgogliosa di dire che siamo una delle eccellenze in Italia.